Musica Carissimi telespettatori bentornati al nostro appuntamento con Via Roma 39 Allora come sempre un saluto al sindaco di Mantua Nicola Sodano Bentornato nei nostri studi signor sindaco Grazie, un saluto a lei e ai telespettatori Allora signor sindaco avevamo annunciato ai nostri telespettatori A chi ci segue che oggi avremo parlato del centro internazionale di Palazzo Te La scorsa settimana c'è stato il consiglio di amministrazione Che ha provveduto diciamo ad una ripartizione delle deleghe Così come lei aveva deciso E peraltro abbiamo il nuovo presidente che lei ha deciso Angelo Lorenzo Crespi Poi ne parleremo Ovviamente però insomma ieri ci sono stati i risultati Signor sindaco delle elezioni amministrative Ovviamente anche Mantua è interessata dal risultato delle provinciali Non possiamo non fare un cenno magari poi su questo argomento Anzi dico già ai nostri telespettatori che su questo argomento Torneremo anche la prossima settimana ad analizzare bene questo voto Che cosa ci sta dietro, quali sono proprio le richieste dei cittadini Però un flash veloce signor sindaco Un commento a caldo di questo risultato Beh è un risultato che dimostra pur nella parzialità del test elettorale Che a livello nazionale c'è un vento nuovo e diverso Ha finito il vento a favore del centrodestra E sembra aspirare un nuovo vento che è il vento del vecchio ulivo però Perché ciò che emerge a livello nazionale è un avanzata Diciamo così un consolidamento dei voti del PD Ma nell'ambito di una coalizione che si riteneva sorpassata Perché vincono in molte parti d'Italia i candidati Diciamo così non appartenenti all'ulivo Guardiamo la performance Non appartenenti al PD Al PD, scusi Guardiamo la performance per esempio di De Magistris a Napoli Tanto per citarne una O di Pisapia Milano Che è stata la vera sorpresa Ecco questo vento diciamo a livello nazionale Sta aspirando anche su Mantua E infatti abbiamo visto che a livello provinciale Il centrodestra ha avuto un notevole ridimensionamento Rispetto ai dati solo delle regionali dello scorso anno Sì, è una flessione del Partito del Popolo della Libertà Che a livello provinciale sembra consolidarsi Intorno al 10% Che è una flessione tra l'altro inferiore Rispetto alla flessione che sembra emergere dal dato nazionale E mi premio a sottolineare che nella città di Mantua Questa flessione è ancora più contenuta Perché rispetto alle comunali dell'anno scorso Quando io mi sono candidato Il PDL perde il 7% Al contrario appunto del 10% in provincia Del 13% in regione Quasi del 15% a livello nazionale Ecco, questo meno 7% però Lei signor Sindaco come l'ha interpretato E soprattutto che cosa sta pensando di fare Per invertire ovviamente questa tendenza? Ma guardi, c'è da dire che è un voto che riguarda il PDL Non riguarda la mia persona Perché io già l'anno scorso sono stato eletto Con un consenso che era contenuto Nell'ambito del centrodestra Nell'ambito del 35% Che è il consenso solito Che prende il centrodestra nella città di Mantua Dai tempi di Marco Ghirardini Via 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 con tutti gli altri candidati Anche Gianni Fava ha preso il 34% Quindi c'è un voto del centrodestra Che io mi limito a segnalare Che è sempre quello nella città di Mantua Io ritengo che di aver avuto un consenso Diciamo così sulla mia persona e sui programmi Sulla mia persona e sui programmi Intendo dire dopo un anno di attività Che bisogna imprimere chiaramente un'accelerata Tutte le varie forze che compongono la mia collezione Hanno avuto una conferma o un ridimensionamento Di questo bisognerà, diciamo così, tenerne conto Nel senso che qui bisogna imprimere un'accelerata Sui temi che mi hanno portato a essere eletto in campagna elettorale Sì, perché molto probabilmente è questo Che davvero i cittadini ormai a distanza di un anno chiedono Del resto, insomma, lei si era presentato ovviamente Come l'uomo della concretezza Un po' in contrapposizione, diciamo, all'amministrazione Che avevamo conosciuto prima E magari, insomma, la fiducia è arrivata su questo fronte Sì, segnalo che in quest'anno è successa la fine del mondo Dal punto di vista economico per i comuni d'Italia Cioè, quello che è successo quest'anno Per tutti i sindaci d'Italia Di destra, di centro-destra Assolutamente, sì Di centro-sinistra e di sinistra Non si è mai verificato nella storia degli ultimi vent'anni E molto probabilmente dietro Con una riduzione, una contrazione Della capacità di spesa dei comuni Veramente mai vista E soprattutto che non è stata graduale È stata improvvisa E si è verificata a elezioni avvenute Perché noi i vari tasselli, i vari restringimenti Li abbiamo avuti dal novembre dell'anno scorso E continuano a raggiungersi giorno dopo giorno Magari un'analisi approfondita del voto La faremo la settimana prossima Ma molto probabilmente dietro appunto anche A questi continuitari, a queste rigidità Ci sta proprio anche questo voto diverso Da parte dei cittadini italiani Che in qualche modo stanno risentendo Capiscono anche che insomma hanno le proprie amministrazioni vicine Bloccate da un qualcosa di superiore Magari non riescono nemmeno a farsi una ragione Sì, comunque queste elezioni Che non sono elezioni comunali Sono elezioni che hanno un altro valore Perché la provincia ha portato a una riduzione A una quantità enorme di gente In meno che è andata a votare Questo ha modificato gli equilibri Del consenso ai partiti Sono anche un modo per chi amministra Per ricevere dei segnali Io dico e comunico ai telespettatori Che c'è bisogno anche da parte della mia amministrazione Di uno scatto d'orgoglio Di una nuova, diciamo così, vitalità Dovuta anche al fatto che oggi abbiamo preso le giuste misure Sia dal punto di vista del contenimento economico Sia della conoscenza della macchina amministrativa comunale Che è una macchina veramente complicata e difficile Allora, chiudiamo un attimo il capitolo elezioni Lo riapriremo la prossima settimana Il Centro T Angelo Lorenzo Crespi Il nuovo presidente Un presidente giovane Mi pare classe 1968 Quarantenne Esperienze a 360 gradi Nel campo della cultura Come mai, signor sindaco, ha pensato a questa persona? Guardi, io innanzitutto Devo precisare che ho dedicato Al Centro T Un anno di attenzione e di lavoro Con equilibri delicatissimi Da dover toccare e modificare Innanzitutto Io sa che io ho tenuto la delega alla cultura Perché ritengo che la cultura sia Diciamo così Come assessorato Sia il tesoro che abbiamo in casa Per il rilancio della nostra città E nell'ambito culturale Il Centro Internazionale d'Arte e di Cultura Di Palazzo T Rappresenta l'eccellenza delle eccellenze Ho pensato ad una riforma strutturale Di tutto il centro Ho approfittato Delle dimissioni del professor Settis In qualità di presidente del comitato scientifico Per nominare il dottor Alenel Khan Con lui abbiamo rimodulato Il comitato scientifico Eliminando, diciamo così Quelle illustre personalità Che erano membri del comitato scientifico Ma che non avevano tempo Di venire a Mantua Abbiamo oggi un comitato scientifico Che è plurale Nelle sue espressioni Di rappresentanza scientifica Ed è fatto da persone Che hanno intenzione di venire a Mantua E che vengono a Mantua Di lavorare È stato implementato Il comitato scientifico Con importanti direttori E personalità dei musei d'Europa E comunque personaggi Con collegamenti internazionali E ho fatto l'analoga operazione Anche con il CDA Non più un CDA formato solo Da persone di Mantua Ma un CDA formato Da persone che possono garantire Un legame con la città di Mantua Ma anche con personaggi Di levatura E di collegamenti Nazionali e internazionali Ecco signor Sindaco Crespi e anche lo stesso Elkan Ci hanno detto subito Che il primo rilancio del centro Secondo loro Dovrà passare proprio Da una nuova valorizzazione Della stessa Villa Giuliesca Guardi questo risponde alla mia filosofia Cioè l'attività culturale Di questa città È sempre stata sinonimo Solo ed esclusivamente Di manifestazioni culturali Di eventi culturali Io penso che bisogna Concentrare l'attenzione Sul patrimonio Questa è la svolta Della mia amministrazione Della politica Del mio assessorato È una filosofia Che sta prendendo piede A livello mondiale Quindi anche Il considerare Mantua patrimonio Dell'umanità Significa Che La spettacolarizzazione Di ciò che abbiamo È Diciamo così Il motivo sufficiente Per fare attività culturale Bisogna dedicare Delle energie Nel patrimonio Nel caso del centro T Non si possono pensare Solo a manifestazioni Senza pensare Alla valorizzazione Del patrimonio E qui abbiamo Delle idee concrete Che dopo se vuole le dico Ecco Innanzitutto Prima idea concreta Poi magari lei Mi aggiungerà le altre L'illuminazione Si L'illuminazione Nel senso che noi L'illuminazione Fa parte di un progetto Complessivo Che riguarda Il restauro Delle facciate Quindi il restauro Del monumento Perché Il monumento È stato oggetto Di una grande restauro Un restauro epocale Fatto negli anni 90 Ma poi negli anni 90 Non c'era quella mentalità Che oggi Già abbiamo Con la nostra università E con il corso Che abbiamo Che sta per partire Per la valorizzazione Dei siti UNESCO Nella nostra università Cioè Non vi erano Quei concetti Legati alla manutenzione Programmata Dei beni storici Il palazzo Il palazzo è stato lasciato A se stesso Dopo Diciamo così Il grande intervento E quindi è previsto Un intervento di restauro Delle facciate E altri interventi Di manutenzione Sull'edificio Nell'ambito Che parte già quest'anno Nell'ambito Del progetto La Regge dei Gonzaga Stiamo individuando Abbiamo individuato In Ferretti Che è Un grande Diciamo così Artista dell'illuminazione Nella possibilità Di dare Di arrivare A dare Una nuova Illuminazione A Palazzo T Vi è l'idea Vi è l'idea Vi è la proposta Di cui si è già parlato Nel CDA Di ricostruire All'interno del Palazzo T Nelle sedra I giardini Cinquecenteschi Che sono stati Spassati via Spassati via nel tempo Spassati via nel tempo Oltre al fatto Che il Palazzo T Deve presentarsi Anche in termini Di accoglienza Con un bookshop E una caffetteria Come abbiamo Così come abbiamo Parlato più volte Sia nel CDA Sia nel Comitato Scientifico All'altezza Dei bookshop Che ci sono A Londra A Parigi A New York Nei grandi musei Internazionali Certo poi sono dei punti Anche di ritrovo Proprio Quindi il centro Internazionale d'arte Di Palazzo T Penserà anche E soprattutto All'esportazione Del mito Di Palazzo T Che di per sé È Momento Momento Diciamo così Deve essere Momento di attrazione Dei visitatori Ecco Il mio presidente Crespi Quando l'ho sentito Personalmente A proposito Delle mostre Ha detto Dobbiamo cercare Di concentrarci Su dei progetti Che in qualche modo Possano essere Da pil Però possano essere Usato questa parola Eticamente Sostenibili Da parte Del pubblico Ha ricordato La Celeste Galleria Ha detto È stata un unico Un 500 mila Visitatori Ci si è avvicinato Ci si è avvicinato Solo il Caravaggio A Roma Ma sono anni Lontani Da troppi punti Di vista Visto quelle che Oggi sono le condizioni Delle casse Degli enti pubblici Visto poi anche Le difficoltà Dei privati Visto come è cambiato Proprio anche Il sistema Museale Ma anche la concorrenza Tra gli stessi Diversi sistemi Non è più possibile Una cosa Di questo genere Però ha detto Si possono fare Ovviamente Progetti Di qualità So che il primo Progetto Che voi avete In mente E ormai dovrebbe essere Qualcosa di ben di più Che in mente La mostra Su Virgilio Che peraltro Dovrebbe poi Distribuirsi anche Le iniziative virgiliane Diciamo Su più progetti Può dirci qualcosa Di più Signor Signor Guardi Innanzitutto I lavori in corso Riguardano due grandi mostre Quella su Giulio Romano Che dovrebbe avvenire Fra il 2013 A cavallo Fra il 2013 Il 2014 E qui posso Signalare la novità Cioè che Quasi sicuramente È certa la notizia Però diciamo Quasi sicuramente Perché non sta a me dirlo Vi sarà la coproduzione Di questa mostra Fra il nostro centro E il museo Di Vienna Questo comporterà Una riduzione Dei costi E comporterà Anche una promozione Di Mantua Vienne Di Vienna Mantua Cosa significa Una coproduzione Che questa mostra Che questa mostra Sarà organizzata Dal nostro centro In collaborazione Con il museo di Vienna Quindi ci sarà poi anche Qualcosa No ci sarà Un periodo espositivo A Mantua E poi la mostra Si trasferirà Però in misura Leggermente ridotta Si trasferirà Si trasferirà A Vienna Avete già in mente Signor Sindaco Cosa ci sarà Poi le parlo di Virgilio Sì In questa mostra Proprio una curiosità Magari di più E di diverso Rispetto a quella Che ci ricordiamo Del 1989 Dunque Io sto seguendo I lavori Che sta portando avanti Il curatore Giovanni Agosti Che è un curatore Che con grande rigore scientifico Sta facendo un lavoro Eccezionale Con la collaborazione Di uno staff Che è già al lavoro Da diverso tempo La differenza sarebbero Gli studi ulteriori Che sono stati I risultati Gli studi ulteriori E i risultati acquisiti Dal periodo Di quella mostra Ad oggi E poi La necessità Di fare una mostra Che sia presente Sul territorio Nei cosiddetti Luoghi giulieschi Quindi questa è la novità Quindi una mostra Che non esaurirà Il suo percorso Solo espositivo Solo a Palazzo Te Ma anche a Palazzo San Sebastiano E anche a Palazzo Ducale E anche su altri siti Individuati a livello provinciale Quindi una mostra Che mette in rete Un po' il territorio mantovano Nell'ambito Per valorizzare La presenza giuliesca Sul territorio Nel suo complesso Che un po' dovrebbe essere Il filo conduttore Se non sbaglio Anche delle iniziative Di Virgilio Il filo Ormai Sta prendendo piede Questo tipo Di concepire Gli eventi espositivi Perché anche l'evento Su Virgilio Non si concretizzerà Solo con una mostra Ma con una pluralità Di iniziative Che nel caso Della nostra mostra Vedrà il centro internazionale D'arte di Palazzo Te Impegnato su un tema Che riguarda Virgilio Cioè la raffigurazione Del suo volto Su questo tema Vi sono state Interpretazioni Molto diverse Negli anni E nel tempo Basti pensare Alla rappresentazione Del mosaico Di Tunisi Per il quale Stiamo cercando Se ci riusciremo E se la situazione Politica Si modererà In quei territori Stiamo cercando Di portare Questo mosaico Che raffigura L'immagine di Virgilio A Palazzo Te Che è un po' L'emblema E questa immagine Ha la particolarità Perché vediamo addirittura Il Virgilio Di colore nero Sì Molto scuro E quindi Questo per quel che riguarda L'evento espositivo A Palazzo Te Poi vi saranno A Compendio Un percorso virgiliano Finalizzato A mettere in evidenza Le presenze Sul territorio Mantovano E anche su quelle Di Virgilio Del passaggio Della presenza Di Virgilio Con una segnaletica Che apporremo Per l'occasione Che rimarrà Nei secoli Seculorum Con la valorizzazione E il restauro Del monumento Che per eccellenza Rappresenta Virgilio Nella nostra città Che è il monumento Di Piazza Virgiliana In collaborazione Con il FAI Con un'iniziativa Dell'Accademia Nazionale Virgiliana Che si farà Nella Che è tradizione Di questa Accademia Fare con cadenza Biennale Ma che per l'occasione Sarà fatta Con il supporto E l'ausilio Di alcuni Premi Nobel Oltre ad altre Iniziative collaterali Fra cui un concerto Per Virgilio Tanto per citare Una di queste iniziative Ecco comunque Allora la mostra Palazzo Tessera Hanno le raffigurazioni Del volto di Virgilio Il tema Che ha il nostro Noi abbiamo dato Un incarico Al nostro curatore Al nostro curatore Che è il dottor Farinelli E il tema E questo Il volto di Virgilio Ho capito E poi mi pare Che ci saranno Molto probabilmente Anche iniziative Nei territori Lo stesso comune Di Virgilio Dovrebbe essere Interessato Ecco peraltro Siccome lei Ha citato il restauro Del monumento Del monumento Di Virgilio Pensi che Siccome qualche mese fa Un paio di mesi fa Abbiamo dedicato Proprio una puntata Del nostro talk show L'ultimo miglio A Virgilio Non hai idea Quante mail ci sono arrivate Dai cittadini mantovani Proprio chiedendo All'amministrazione Che si prenda Proprio a cuore Questo monumento Che è lì Spesso un po' Abbandonato Le scritte abbondano Poi vengono coperte Poi vengono Magari non so Se in futuro Ci potrà essere Anche la possibilità Magari di una Maggiore attenzione Anche a questo monumento Il fatto di Porlo al centro Magari di una Serie di iniziative Sì Per poterlo Proteggere Dagli atti Diciamo così Di vandalismo L'unica cosa Nei confronti Di questo monumento È mettere Delle telecamere Quindi è una cosa A cui stiamo pensando Perché non c'è Altro modo Insomma Certo Ecco Signor Sindaco Poi sono già state Abbossate Altre iniziative Soprattutto Elkan Quando lì si parla È un fiume in piena Per quanto Ecco Avete già calendarizzato Qualcosa Ad esempio È tornato ancora una volta Sulla possibilità Della mostra Tulemaica Le iniziative Riguardo Il mondo ebraico C'è già qualcosa di più O al momento Sono progetti Allora Non abbiamo calendarizzato Perché il Consiglio D'amministrazione Si è riunito Per la prima volta La settimana scorsa La settimana scorsa Ed è compito Del Consiglio D'amministrazione Calendarizzare Ecco Sempre la settimana scorsa Quindi otto giorni fa Ho nominato Il Presidente Angelo Crespi E quindi È adesso Che occorre Calendarizzare C'è da dire Che noi abbiamo L'intenzione Di fare in modo Che a Palazzo T Vi possono essere Questi eventi Importanti Ma anche che vi siano Eventi Tutto l'anno C'è una pluralità Di iniziative C'è tanta carne al fuoco Dalle mostre fotografiche Fatte ad hoc Preparate ad hoc Per valorizzare I saloni Di Palazzo T Alle mostre Sull'ebraismo Alle valorizzazioni Con dei collegamenti Per il Museo Egizio Insomma C'è tanta carne C'è tanta carne al fuoco Che adesso Il CDA Finalmente Con il nuovo Presidente Con le deleghe distribuite Dovrà calendarizzare Segnalo Che a Palazzo T Per esempio Adesso Nel mese di giugno Vi sarà Una sezione staccata Della Biennale D'Arte di Venezia Che occuperà Gli spazi espositivi Di Palazzo T Dal mese di giugno Probabilmente Se ci riusciamo Fino alla partenza Della mostra di Virgilio Ecco Una domanda Signor Sindaco Il Presidente Del Comitato Scientifico Alenel Cann Proprio la sera In cui Diciamo Lei Ha ufficializzato Il nome Di Angelo Lorenzo Crespi Al Teatro Bibina In occasione Della presentazione Del suo ultimo libro Parlando di Palazzo T Ha lamentato Il fatto Dei concerti All'interno Di Palazzo T Ha detto Adesso Anche con questo Lavoro di riqualificazione Dei giardini Dobbiamo pensare Che questa non è La sede Più opportuna Lei è d'accordo Di concerti Devono uscire Dunque Innanzitutto Questo è il volere Della sovrintendenza E quindi I concerti Che vi saranno Quest'anno Quasi sicuramente Anzi sicuramente Posso già anticiparlo Sarà l'ultima volta Che si terranno Perché appunto Sul posto Dove ci saranno I concerti Dove oggi Si svolgeranno I concerti Vi sarà La ricostruzione Del giardino Cinquecentesco Per cui È impossibile Svolgere i concerti Sul giardino Che noi ripristineremo Ma questo È il volere Anche della sovrintendenza Che già l'anno scorso Ha fatto fatica A darci il permesso E quest'anno Ci concede Il permesso In virtù Della promessa Che è l'ultima volta Che noi chiediamo L'autorizzazione Visto che ripristineremo Il giardino E poi signor sindaco Noi non abbiamo tempo Tra l'altro Sarebbe un discorso Molto complesso Ci sarebbe davvero Da parlare Della riqualificazione Dell'area vicina Della zona Che circonda Palazzo T Ma questo ovviamente È un lunghissimo discorso Peraltro appunto Il nostro tempo È già abbondantemente scaduto Io quindi La ringrazio Per queste spiegazioni Per averci parlato E fatto capire Quali saranno I prossimi progetti Di Palazzo T Allora invito già I nostri telespettatori Ad inviarci Le proprie domande Le proprie email Relativamente Diciamo Al quadro elettorale A queste elezioni Che abbiamo appena vissuto Peraltro insomma A livello provinciale Andremo al balottaggio Tra Gianni Fava Alessandro Pastaci Quindi assolutamente Clima elettorale Per altre due settimane Grazie ancora Signor Sindaco Dunque Buon lavoro Grazie a lei Un saluto a tutti Grazie 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 a tutti.